Musica Gaetano Gazzoli ti faccio i miei complimenti più sentiti è il cinquantesimo anno che fai questa corsa a Capodarco che è una corsa che ha sfornato tantissimi professionisti Musica 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 Grazie a tutti. Una presentazione così sicuramente il gran premio è 100%, già ce l'abbiamo sotto mano. Quando un bene ha più di 50 anni diventa già piccolato per la sua bellezza e per la sua storicità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.